Il capitano della costa Concordia, Schettino, è stato ripreso dai fotografi mentre era alla guida di un motoscafo nel mare di Sorrento. Nessuna meraviglia, è il motoscafo del suo avvocato Bruno Leporatti, dichiara Carlo Sassi l'ex sindaco di Meta di Sorrento e amico del comandante. Schettino ha l'obbligo di dimora a Meta e senza dubbio quello che ha fatto gli era consentito. Leporatti nega l'accaduto e dichiara, non ci sono io in barca con il comandante Francesco Schettino, non possiedo né un motoscafo né un gommone né un pattino, né ho preso a nolleggio un'imbarcazione, tanto meno sono stato in mare con Schettino nella penisola Sorrentina, escludo che Schettino abbia pilotato il motoscafo, anche se lo potrebbe fare. Grazie a tutti.